Sensoci Siamo sensoci Ecco Ed è pieno di ragazzi Mi sembra molto turistica E' difficile Mi sembra se Ah, qui ci sono Tutti tipo mai E qui c'è la mega L'alterno C'è veramente tanta gente Il vantaggio di essere qui è che Non sono molto alti Quindi basta fare così E si vede E in fondo c'è il tempio Sì Questa è la porta per gli spiriti Questa va E' la porta Dove passano gli spiriti Ah, si Vero perché Il primo dell'anno I giapponesi vengono qui a pregare Al tempio buddista C'è la macchina tipo Per fare i brigidini E fa cose giapponesi Ah, e le... come si chiamano queste? Zori Zori Per donne Tutti Tutti I regali I regali Teatro Tutti con la mascherina Non si sa bene da che parte andare Qua 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 cosa fanno? Ah, dolcini Tipo Con il liso Tutto Travola Vabbè Quasi Questo 편 Travola E' Certo ah bellina qua, ventagli e le lanterne ah questo è il ventaglio estivo no photo c'è scritto, meno male sto facendo un video strada japonese perchè le parrucche? è un po' turistico ma non è brutto il fatto no no dico il fatto che qui c'è tempio e ci mettono negozi è strano no? come Međugorje è un posto no è un posto in Europa dove in Croazia insomma è in Europa dove praticamente si dice che c'è stata l'apparizione della Madonna e quindi le persone vanno lì per pregare però è pieno di negozi per fare business perchè ci dicevo per questo no il business è uguale che più moda ah quella è maschera di Tengo quello naso rosso sì tante persone questo vestito come un altro modo un'altra porta ma qui cos'è a questa è altra porta questo è il tempo che non si entra di qua no però nelle foto che mi hai mandato a te c'era più più fila più gente pane dolce ecco qua siamo arrivati in cima perché accento diverso ah era qui da dove mi ha mandato la foto era qui? no, qui là? no, qui là ah là ok tempio grande? grande questo è il più grande di Foglio? qui c'è la torre ah sì tu di tu di tutti finalmente sono i cercatori d'oro che hanno trovato l'oro con la terra e fanno qui c'è la torre ah che è oh dio ah intenso ah perché fanno così perché porta fortuna quanta gente salta ah oh ah o as mamma